La Befana non porta solo dolce e carbone ma anche una sana attività fisica, meglio se praticata vicino al mare. A Bari, al waterfront di San Girolamo, arriva Befana a un board. La manifestazione, a partecipazione gratuita, è rivolta a persone di tutte le età e si pone l'intento di condividere discipline sportive come stand-up paddle, skateboard, surfskate, windsurf, kit e surf, chiamate board sports, coinvolgendo diverse generazioni. Appuntamento dal 2 al 6 gennaio. Questo è un progetto bello secondo me appunto perché non solo occupa fisicamente uno spazio pubblico che stiamo tentando di valorizzare come quello di San Girolamo perché le due realtà sportive, Impact Board Academy e Scuola Surf Bari, sono concessionari di due locali sul waterfront. Ma l'idea è quella di far praticare sport gratuitamente a ragazze e ragazzi dagli 8 ai 16 anni con i loro genitori se lo vogliono. Dal 2 al 5 di gennaio con una manifestazione finale il 6. Cioè quante volte ci poniamo il tema di passare maggiormente del tempo con i nostri figli e anche di praticare sport con i nostri figli. Questo progetto ci aiuta a realizzare anche questo obiettivo. Forniremo a tutti i praticanti che verranno queste giornate dal 2 al 5 e il 6 la manifestazione dalle 9.30 alle 13.30 forniremo tutto il necessario. Quindi mute, scarpette, tutto quello che serve per entrare in mare anche la tavola. Forniremo a tutti i nostri figli.